Dare nuova dignità al lavoro grazie ad un percorso virtuoso di collaborazione di diversi enti. E' così che è diventata realtà la nuova postazione fisica per soccorritori, autisti, medici e infermieri del Servizio di Emergenza Urgenza del 118 nella città di Trinitapoli. Due postazioni, Indie e Mike, dell'ASL BT, gestite dalla Sanità Service dell'ASL, che da questa settimana sono all'interno dei locali di Via Cavallotti con annesso cortile dopo la concessione d'uso da parte della gestione commissariale della città di Trinitapoli. Oggi inauguriamo la nuova sede della postazione 118 di Trinitapoli, un importante traguardo perché, come ho avuto anche in altre occasioni in modo di affermare, la dignità del lavoro passa anche attraverso la dignità dei posti in cui si lavora. Soccorritori, autisti, soccorritori, infermieri e medici oggi avranno una sede degna per poter espletare al meglio il Servizio di Emergenza Urgenza 118. Ambienti molto più ampi, stanze divise con letti ed armadietti oltre a servizi e salone comune come negli standard più corretti per le postazioni H24 di Emergenza Urgenza. Conclude un percorso virtuoso che ha visto le istituzioni al fianco, uno accanto all'altra. L'ASL, grazie alla direzione strategica, è anche il comune di Trinitapoli, quindi la personale del commissario prefettizio, unitamente alla direzione di Sanità Service. Quindi si è data dignità ai lavoratori, abbiamo dato una nuova postazione, per due postazioni di 118 della cittadinanza di Trinitapoli, che quindi possono continuare a svolgere il loro servizio, perché è un servizio per la cittadinanza e per l'utenza, sempre con la massima quindi competenza e con la massima dedizione. Il servizio di Emergenza Urgenza nella Bata ha da poco visto l'affidamento a Sanità Service, che continua nell'attività di crescita. Ricordo il successo di questa internalizzazione, grazie ad un importante lavoro di squadra, con il dottor Jacobo nel coordinamento del 118 della ASL e il sostegno della direzione strategica. Un grazie a tutti i lavoratori che ogni giorno si prodigano per garantire a questo territorio un servizio strategico di altissima qualità.